Castrati è un giovane portiere del Pescara che quest'anno ha debutato proprio nella partita interna con Livorno. Una vittoria direi preziosa per il Pescara, la prima in questo campionato mise la firma proprio Castrati. È passato un po' di tempo, però è sempre bello ricordarlo. È passato un po' di tempo e sono stato molto contento. Ho lavorato tanto, mi sono fatto trovare pronto, lavoro sempre e quando la squadra c'è bisogno penso di stare sempre pronto. Con un portiere del genere si può essere sicuri di poter migliorare sempre di più? Certo, lavorare insieme a Fiorillo e anche a Simone che è arrivato un po' più tardi, migliorare solo. Ci lavoriamo tanto anche con Mistral Degani. Sei felice anche di stare in panchine? Sì, penso di sì perché è una grande squadra, siamo il secondo in classifica, è sempre bello stare qua a Pescara. Sono stato anche prima qua, mi trovo molto bene con la città e tutto. Adesso c'è una sfida sentitissima con l'Ascoli, un quasi derby che tutti i tifosi aspettano. Tra l'altro l'Ascoli è una sorta di bestia nera perché il Pescara non lo batte da sette anni. Allora, è una squadra difficile però in Serie B non c'è tanta differenza, sono più o meno tutte le squadre uguali. Abbiamo avuto il tempo anche che si è fermato il campionato per le nazionali, così abbiamo avuto tanto tempo per preparare meglio questa partita e speriamo di prendere il risultato che vogliamo. La sosta è stata utile quindi? Sì, penso di sì, è servito tanto e così speriamo di fare una bella partita domani. Domani lo sai che ci sarà una cornice di pubblico direi molto interessante. Eh sì, è un derby sentito e il pubblico ci dà una mano. E speriamo di portare a casa la vittoria. In bocca al lupo e complimenti Castrati. Grazie.